I comuni, questa qua è al minimo 50 mila euro, andiamo a mettere su uno, a mettere su di questi palami, un ex po' altro, perché tutti i palami vengono messo un po' un po' e adesso non stiamo mettendo i cartelli, perché avevamo messo un esporto bene, dove ci sono le cose, 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 le cose. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.